Bella raga, oggi giocheremo a Minecraft Vanilla C'è nel senso, non è proprio Vanilla, è in creative, ma va bene Allora, oggi andremo alla ricerca del portale dell'end e sconfiggeremo il drago Come potete vedere, sono in creative perché è inutile E' impossibile avere tante cose del genere Non voglio stare qua, affoghiamo 17 di aria di speriamo Affoghiamo Dai, mi chiede anche, come si chiama, veleno Io c'ho la casa del veleno, che mi dà veleno Oh, vai, vai, muori Ok, ok, sono morta e c'ho per fortuna la Kip Inventory No raga, dove è il villaggio? Aspetta, meteo Ehm, no, sì Ok raga, scusatemi Abbassiamo un po' i volumi di Minecraft perché se no mi danno fattiglia Speriamo che sia qua il villaggio perché mi ha portato lontanissimo raga Salva il villaggio e vedere casa, ok, se non la vedete Qui c'è il cursore Wow, c'è la terra qua Questo è l'ultimo stack di terra Allora aspettate, aiuto Ok, ho bugato Ho bugato No, 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 no Allora il legno devi nuotare E' bene se devi nuotare No, sta arrivando la notte Giorno Allora Ok, qua c'è il ride raga Non so doveva il ride però Ah, eccolo Ho trovato il ride raga Dopo tre anni Ho trovato il ride Solo che era bugato Perciò non lo vedevo Oh madonna Aspetta, vi faccio un ride in game mode Perché io non so uccidere un ride senza la game mode Bad game mode 1 Eh, madonna Tira come scrivo malissimo raga Ansia ora viene Cioè, in realtà non è ansia perché Ah, che c'ho questo in mano Ok, aspetta Madonna, posso vedere qualcosa che spacca? Ecco una caverna Ecco una caverna Un caverna Uccidiamo il ride Ride Muori, 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 muori E' morto Un altro ride Un altro ride Un altro ride Ok, ci chiamo questo ride Raga, c'è in un mini mod Un'altra andiamo a uccidere altri ok creatura rimaste due cioè sta una qua e l'altra e poi muori muori oh mi ha droppato pure qualcosa di enchantato ok ecco qua ok ho vinto raga è duro ho sconfitto però anche se è in creativa comunque se vedete la terra tappata eccetera eccetera perché avevo paura che uccidevano qualcuno nel mio villaggio quindi ho detto è meglio che tappo quindi ora dovrei avere una ricompensa aspettate fammi le vai prima oltre la terra leviamo è morto è morto qua dentro il povero va bene tappiamo tutte le case potete uscire finalmente uscite via le come si chiama le band non morì no vi bravo è morto vuole stare là dentro si alleluia 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 guardate allora ora torniamo in anzi no devo metterlo un attimo un po' di terra dove è che ho rotto dove è che l'ho rotto raga ah qua ok aspettate facciamo così così poi facciamo raga abbiamo vinto è per me una vittoria tutto questo win we are the champion and win we do we are the champion come fa non lo so la burrata così comunque no aspettate la burrata la burrata game mod 0 ok so rapidanza raga per me è una vittoria abbiamo sconfitto il raid wow ma me l'ha aspettato tutto questo vabbè si me l'ha aspettato perché è creativo ma va bene guardate ora ci fanno gli sconti vedete cioè ci fanno gli sconti i villager io li amo i miei villager ok che cosa è questo è il miele si cioè ragazzi io amo questi villageri giuro sono Todd Param ragazzi per me allora c'è vedete c'è raga io adoro questi villager grazie vi amo villager eroe del villaggio ragazzo l'eroe del villaggio ok vado a mettere un attimo nelle mie magazzino tutte queste cose dopo quel tempo ci metto ma vabbè è scappato di lama che ha aperto bello torna dentro ok che ha aperto vedo un po' di una vita è morto sì è morto allora possiamo mettere cose inciantate mettiamo questo le pecce un po' questo è soffreduto poi c'ho ottenuto dalla fame di pesca dei libri colpo multiplo poi c'ho questo poi c'ho questo poi c'ho questo mamma mia adoro tutto questo viva viva la libertà allora mettiamo questo ok poi cosa ho ottenuto i villager pale una pala la metto qua ok poi mettiamo una ascia la mettiamo qua però aspeto adesso non la vedo qua ok le spade vabbò me la tengo però c'ho quella di ferro questa è quella di ferro si ok poi guardate queste selle mi hanno droppato giuro mi hanno droppato la mia armatura ok questa è una armatura si è bruciata si mette sopra il cavallo questo qua questo qua questo qua e poi carne marcia da qua ok ok le frecce vanno ah qua i guinzagli vanno ok facciamo tutto spandiamo un po' i lacci ok aspettato ora andiamo a riscire l'andrata però due minutini che mi organizzo un attimo l'inventario ok mettiamo un po' di questo poi mettiamo che avevo il cibo la cibo la cibo però questo e questo poi i minerali ok mettiamo questi poi invece questo lo appendo poi sempre qua mettiamo questo anzi mi dovrei portare questo per il semplice motivo di uccidere il il mettiamo quello vabbè comunque di uccidere il drago ok io mi appenderei questo mettiamolo qua sì carissimo mi piace un botto comunque allora c'è qualcosa allora facciamo ora mettiamoci in game ad slash il pane dell'ora al mattino le pende al mattino iata un'altra il bambino la coppa eeeh mi fai bonti guarda adesso vengo mod uno sì ancora e questa è l'unica speranza che hai se tu non ne avessi neanche una ti avrei ammazzato allora prendiamo mettiamo tipo che devo mettere ora torno ora andiamo alla ricerca della hand raga mamma buona togliamo raga non mi funziona molto bene il mio passaggio segreto ma vabbè scella devo cercare vetro vetro ok poi occhio della perla io cerco occhio non lo so se ci esiste sì occhio di ecco tutta la ora spiega come si utilizza tu la butti tipo in alto no la come si è in alto come si ha fatto il portale questo non fa capire slash game mod slash game mod 0 no 1 0 ok però prima di tutto mettiamoci lo spawn point c slash punto di generazione no ti hai trasporto no non basta punto di generazione con spawn point ok qua come si fa no va di la ok non vedevo ok sotto qua c'era che sotto il magazzino ci sta il portale dell'endo non è vero no non è possibile allora ragazzi non è possibile non è possibile non è bene ragazzi io non ci posso vedere slash le mod 1 ho proprio sotto casa il magazzino sotto il magazzino riprovo c'è veramente questo qua non ci posso vedere dove va ok 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 no no non sto tutto vale perché mi sto andando la una strada un po' sotto la cosa più portale vediamo dove vanno se vanno il giorno che si direziona allora ragazzi no non voglio esplorare mentre piove cacchio mettiamo pure ora giorno poi dove dobbiamo andare di qua ok di qui uuu le api vabbè un po' è lontanuccio non so ma sembra che è lontano vabbè non so se è qua sotto come si fa sapere se è sotto mi potrei scrivere se siete mai stati nell'endo che sto qui su youtube ok ragazzi non lo so dove come si cerca un portale come si cerca guardate guardate voi le so tutte le scelte del ok qua ma lo so come si fa capire se è sotto se non è ma c'è un villaggio ma c'è un villaggio come si va le coordinate ok le coordinate la canta salvo ok vediamo due allora è under per ok raga come si fa a sapere se è sotto o non è sotto no quanto è lontano un portale raga sinceramente non lo so come si fa a capire se è sotto o non è sotto meno guardate che mi so portate tutte stelle and e per lo c'è quante and e per le per sotto la vera qua sotto dov'è ch no no non mi piace però sta qua sotto si sta qua sotto forse dove cercare la sotto perchè vedo che fanno una cosa strana non lo so ragazzi dov'è una cosa strana fanno non so ragazzi come si fa ragazzi ma si può craftare il portale se adesso si fa a casa ok ragazzi forse sta qua sotto se va più lontano non è qua sotto però anche ragazzi sta sempre in questa zona se vedete bene attena sempre in questa zona non so se devo cercare ok sto in questa zona ragazzi provo a lanciare un altro po' si sto in questa zona ok si ragazzi in questa zona se vedete bene vedete bene chissà se si sta andando bene speriamo chissà se in questa zona non so Oh come devo trovarlo? però mi indica questa strada come ho fatto da un portale? sono un imbecille perchè non riesco a trovarlo? nooo aspetta te la capito del tutorial